Ciao a tutti ragazzi sono MarioCraft e oggi siamo qui nel non episodio del mio let's play moddato lag estremo con la pioggia però amen Allora dall'ultimo episodio io ho semplicemente ricreato un po' la farm, fatto un po' le modifiche, è stato fk per un bel po' E crepato sono fk perchè mi sono dimenticato di crearmi un posto per stare fk in lag Ok ragazzi perdonatemi ma sto andando solo un attimo in situ per togliere questa pioggia fastidiosissima perchè non mi lascia registrare Allora vediamo rimettiamoci tutte le nostre bubbles Bubbles, bubbles, tinker E qui E 1, 2, 3, 4, no 4, 5 Questa può andare qua, questa può andare qua E questi possono andare qua E boom 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 Perfetto Allora che cosa è successo dall'ultimo episodio? Ho ricreato un po' la farm, vedete che ho tolto un po' di roba Ho usato il transfer node alla fine qui sotto che funzionano molto meglio Hanno tutti degli speed upgrade E ho lasciato la farm a fk per un po' E il problema è che questo coso produce sludge E quando è pieno di sludge non andrà più avanti Quindi avevamo messo qui una tannica però è diventata piena E noi non possiamo più andare avanti con questo macchinario Perché si è riempito di sludge E allora dobbiamo trovare una soluzione Che è quello che faremo in questo episodio Nella prima parte di questo episodio Intanto potete vedere che è andato avanti benissimo Nell'ultimissima parte dell'attività di questa farm Ho creato qui in mezzo Vedete questa zona che sarà dedicata al farming Perché voglio anche un po' di semi, un po' di questa roba E qua potete vedere che abbiamo uno stack, uno stack E poi un seme solo perché non ce ne sono Però, cg E qui abbiamo un sapling a cazzo Vedete che qui i sapling hanno cominciato Questo no, ma questo ha cominciato A impienirsi Allora vediamo cosa possiamo fare per questo sludge E quindi è il momento di creare uno sludge boiler Motherfucker Quindi allora vediamo sludge Sludge boiler E sì, dovrei cavarmela in pochissimo tempo Allora vediamo Voglio provare a fare un tipo di episodio Adesso ve lo spiego e poi taglio Voglio provare a fare un tipo di episodio un po' diverso dal solito Un po' più all'armicraft Ovvero fare tante cose off camera E farvi vedere insomma che cosa ho concluso on camera Credo che venga un episodio un po' più dinamico Ora io proverò a fare una cosa del genere E voi scrivetemi nei commenti se preferite questa modalità O la solita modalità di fare un po' tutto on camera Non l'ho detto Be right back Credo di dover fare una rettifica Perché sento foglie che vengono mangiate Sebbene non abbia ancora fatto le modifiche E quindi Non so Probabilmente Lo sludge lo fa solo rallentare In ogni modo Ecco vedete Lo sludge lo fa solo rallentare E anche di parecchio Però noi andremo lo stesso a settare Un po' Uno sludge boiler Ok ragazzi Possiamo vedere Allora magari Prima di scendere Vado a prendere velocemente Questa planica Non ho ancora creato un sistema Automatico Per portare Lo sludge Lo sludge nello spoiler Però lo faremo presto Allora Ho creato il nostro boiler Molto sottoterra Non molto Ma abbastanza sottoterra Perché Quando si avvicina Allo sludge boiler Vi da tantissimi effetti negativi Tipo poison Wither E quindi è meglio Tenerselo un po' lontano Vedete che qui siamo esattamente Sotto l'harvester E se noi adesso Facciamo cosi Come ce lo pompo Io provo il liquido Qui dentro Così No eh Forse se io lo mettessi così E poi così No beh E mi serve un fluidact Che ho dimenticato Quindi Cerchiamo di usare Quei fluidact Che abbiamo craftato E precedentemente Che non ci servivano Perché abbiamo Creato in più Di quei Di quei servo Quelli che Alla fine dello scorso episodio Costituivano la nostra La nostra farm di alberi Ecco insomma Ora non servono più Perché li ho cambiati E quindi GGWP Teoricamente Se noi facciamo così E poi No non così E Così No Che palle Così E poi Questo lo mettiamo in output E prendiamo il nostro E prendiamo il nostro Copper fluidact Lo mettiamo qui così Tu non autoestrai Quindi ti servirà un servo Badabim Badabum Badabim Badabum E adesso vedete che stiamo Ottenendo un sacco di effetti Che Non voglio Quindi Mettiamo questo Egg Lo rompiamo No No Via Cattivo E Decaying With Ah Il With Se sta vicino Avevo del galone alimentare E' diventato Decaying Per qualche strana ragione Mettiamo Qui Questo E No Tu tieni il tuo Il tuo contenuto Immagino Tu stai qui un attimo E finisci di fuori Tutto il tuo sludge Perché intanto Io devo settare Appena finito Un sistema È finito E Yes Mi serve Un sistema Automatico Che Faccia uscire Gli oggetti E poi eventualmente Saranno barili Quindi facciamo così E così E così Vediamo se autoestrare Se no Lo faremo estrarre noi Eventualmente questi oggetti Diventeranno barili Però Per adesso Siccome non so Quanti tipi diversi Di oggetti Da Il boiler E Lo sostituiremo poi Insomma ecco Quindi vediamo Clay Gravel Vabbè Noi lo lasceremo qui E Yes Adesso collegherò La linea dei fluid act Da sopra Qui giù E Poi Così avremo Un sistema automatico E Andremo a fare Quello che voglio fare In questo episodio Abbiamo già perso 6 minuti Bigger pack E Et voilà È leggermente più veloce Ma Leggermente Non si nota Quasi Vabbè Allora Passiamo a fare quello che voglio fare Veramente Questo episodio Poi torniamo a controllare il boiler For un po' di tempo E Cioè Il nostro fiorellino Che ci creerà Tanto bel mana Da Dalle foglie Che è quello Il principi La cosa Perché abbiamo creato Quella farm Allora Estraiamo il nostro Lexica botania E vediamo cosa ci serve Per creare un Munch Di U Poi Ne creremo Di più eventualmente Allora Ci saranno tutti questi petali Voglio Concentrarmi sulla runoff Glattoni Quindi Runoff winter Runoff fire Oh cazzo Ci serviranno tantissime cose Divete Ok ragazzi Siamo quasi pronti Praticamente Ho dovuto Craftare una runoff winter Che era una runoff Water E una runoff air No di earth Una acqua earth Poi c'era una torta Mi ricordo Era un casino di cose Da craftare Ad ogni modo Abbiamo le nostre tre Perché ne da sempre tre Quindi ora ne abbiamo tre Quindi volendo Possiamo creare tre Sbagna nini Sli Munch Dio Poi abbiamo già la runoff Vedete che era così Il crafting Water Earth Snow Che ho dovuto Craftare utilizzando Un piccolo trucchetto Che poi vi spiegherò E poi Torta E basta Principalmente era questo Una runoff air Ce l'avevo già Craftata da prima Quindi gg's E ora mi servono Semplicemente due diamanti Per completare Il crafting Tutorial avanzato Su come pulirsi L'inventario In preparazione Di una registrazione Per non averlo un casino Tutorial concluso Ecco Vedete questo è il motivo Per il quale Voglio Crearmi Al più presto Se non Nel prossimo episodio Un sistema di smistamento Automatico Rende prepararsi Per le registrazioni Una maniera Assurdamente Più veloce Vedete comunque Che qui ha già Pulito tutto Quanto Andiamo a vedere Quanta roba Abbiamo Not bad Abbiamo della Hitsand Del micelium Soul sand Nether Un sacco di sabbia Dirt Dirt Course dirt Decaying Pit 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 Questo è molto buono Da avere E clay Che anche è buono Da avere Sono un bel po' Di robe GG E allora Vediamo E andiamo a croftare il nostro fiore Ok Quindi Vediamo Due mana diamond One two E done Poi Questi qui Una rune of winter E una rune of fire Più questo Boom Intanto Andiamo a prenderci Un pezzo di Living Rock Vediamo Pronto Sbam Rune of Latonia Ce ne da due questa volta Non so perché Però vabbè E allora Vediamo Cosa era Cosa serviva anche per Craftare il nostro Munchdew Allora 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 Munchdew Sono White White Red Red Green Green Lime Allora White White Green Green Un lime E poi Red Red Dovrei avere tutto Allora Vediamo Sbam 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 Poi Uno di questi Uno di questi Uno di questi E dovrei avere tutto Vediamo E secchio 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 Per il resto Ho anche un modo in mente Per automatizzare Questo Però lo faremo Più tardi E uno Due Un 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 Capito Allora Dovremmo Fare così E' un po' difficile capire Quale di questi Petali è mystical E quale no E quale è mana Perché E Wait Non mi ricordo già più Green serve uno solo Ok Ho sbagliato D'addio Ce la posso fare Ce la posso fare E' vero Posso fare anche così Vero Ecco Questo non va Così e così No la 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 run of platoni E Bam Munched you Yes bitch Please E se noi adesso Lo mettiamo per esempio Qui Tu cominciai a mangiare Le foglie E a fare mana E poi io prendo Il mana spreader Che dovrei avere qui Boom Lo puntiamo In bind mode Alla mana Pul che c'è Qui Vediamo se Dovemmo pulire Questi blocchi Quindi Palla delle mie brame Dovemmo pulire Questi blocchi Questi blocchi Così Potrebbe No Non toglie anche questo 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 Poi risolver Cioè Lo farò più bello Soon In ogni modo Così dovrebbe andare Yes Abbiamo un Un punto di Non mi dispiacerebbe Poter mettere Questo mana spreader Leggermente più vicino Quindi Facciamolo Perché Da quel punto Lì vedete che c'era Quella straccia di bollo Il nostro mana Viene a perdersi Quindi lo mettiamo Qui Il nostro Munch Lo mettiamo Qui E Lo bindiamo A questa E adesso Uno più avanti Poi Eventualmente Metterò più Munch Intorno alla Per prendere Tutte le foglie In ogni modo Dovrebbe avere Un buon raggio Quindi Non dovremmo avere Problemi E Bind mode Tu Con Tu E adesso Dovremo essere In pretty good shape Vediamo Lo sui vuoto Lo sui vuoto E non ci sono foglie In ogni modo Quando un albero crescerà Il nostro manci Comincerà a manciarlo E Noi otterremo mana Da lui Quindi Anche se questo Lo so Produce male Ma Se ne fotte Non ne avevo più bisogno Nice Nice Ok direi che Per ora possiamo Prenderci un attimo Di pausa Dalla botania Anzi c'è un'ultima cosa Che voglio fare Prima di prenderci Un attimo Di pausa Ed è Quella di Convertire Tre blocchi Di ferro Tre blocchi Di ferro In tre Blocchi di Mana steel Convertirlo tutto In mana steel E craftarmi Una mana steel Armor Perché è sempre Buona ad avere Quindi Intanto Cortiamo questi E poi L'elmetto No L'ho già Craftato Il chest plate Sbam Questi possiamo Rimetterli qua Questa armatura È molto buona Perché è come L'armatura Di ferro Però prende Durabilità Dal nostro Tablet Quindi E vediamo Quanto mi hanno usato Non troppo Tu stai ancora Rubando foglie Sei tu che le mangi Quelle O le arvestre Vabbè Ad ogni modo Siamo In Una situazione Molto positiva Soprattutto per il legno D'altro quanto Noi ne abbiamo Vabbè 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 Cominciamo con un'altra mod magica Perché a me piacciono le mod magiche E quindi puliamoci l'inventario Perché è il momento Della Mod magica Per eccellenza Su Minecraft Signori Signori Preparatevi Per Ah Trollolol Infatti Comincieremo con le mod tecniche Perché abbiamo fatto poco Tra il resto Qui ho fatto il rilascio Al precipitator Prima Che è quello che mi ha fatto fare le snowball Con dell'acqua Crea della snow Easy peasy Allora Cominciamo con delle mod tecniche Voglio cominciare A entrare Nella mod Ender IO No scherzo Troll E voglio cominciare Assolutamente Con la Applied Energistics Perché ci aiuterà tantissimo Early game È un mod più da late game Devo dirlo Però Early game Ci aiuterà tantissimo A compattare Tutta questa cosa Tutta questa cosa In una cosa sola Quindi cominciamo Nella Applied Energistics E lo faremo Guardando questi achievements Anche se ho già Già da come cominciare Andiamo un po' insieme Sono tutte cose Molto basilari Ad ogni modo La prima cosa Che vorremmo fare Sarà andare A caccia di meteoriti Allora Vediamo se abbiamo Del charge Search squad Abbiamo del charge Search squad Se poi noi lo combiniamo Con del ferro Pam È la prima volta Comunque che faccio La Applied Energistics 2 Che provo a fare La Applied Energistics 2 Quindi GG Meteoritenter Allora Questo compass Ci guiderà Verso il meteorite Più vicino Io per fortuna So che ne abbiamo Uno Proprio lì Quindi intanto Andremo a prendere quello E poi vi spiegherò Perché stiamo andando A prenderli And there we go Qui c'è il meteorite Anche se deve ancora Caricarsi Eccolo qui Direi di andare In blades Per evitare Qualsiasi cosa E vedete che Questa è formata Di skystone Che è un materiale Durissime particelle È un materiale Durissimo E più o meno Come l'ossiliano Ne possiamo romperlo Però ci metteremo Tanto tempo Quindi Probabilmente taglierò La parte di me Che scava dentro La skystone In ogni modo Dovremmo trovare Prima o poi Qui dentro Oltre alla skystone Che è un materiale fantastico Che mi piace moltissimo Prima o poi Troveremo Una skystone chest E all'interno Di questa chest C'è una cosa Che ci servirà Assolutamente Per cominciare Con l'applied Energistics Senza la quale Non si può andare Da nessuna parte E questa cosa Ecco qua La skystone chest E abbiamo Tre delle quattro Press che ci servono Logic Engineering E Calculation Se noi guardiamo Qui in press Logic Calculation Engineering E Ne ho impresso Un'altra cosa Silicon Ci manca la silicon Chi è Direi la più importante Delle tre Quindi andremo Andare a cercare Un altro meteorite Insomma ci servono Questi quattro tipi di presse Per cominciare Con l'applied Energistics Prendiamo anche un po' Di skystone Perché mi piace E voilà Questo è un altro meteorite Chunk A quanto pare E proviamo F9 Se non sbaglio E Ecco Questi sono i Chunk Quindi all'interno Di questo chunk C'è un meteorite Quindi adesso Io prenderò il nostro Excavator E scaverò in giù Fino a quando Non lo troveremo Ok ragazzi Io vi giuro Che non ho mai avuto Così tanti problemi A trovare Un cazzosissimo meteorite Perché non riesco a capire Dove possa Essere Perché ho scavato Praticamente tutto il chunk A diverse altezze E non riesco a capire Dov'è Quindi Sì Probabilmente è qui sopra A questo punto Qui c'è del quarzo Ok ragazzi Io mi arrendo Con questo meteorite Perché potete vedere Che ho scavato Dovunque E non c'è Almeno che non sia Qui sotto Ma non credo Oh Sono blitz Sono blitz Sono blitz Sono blitz E Vediamo di tappare l'acqua Di andare di qua Semplicemente E Sì Io mi arrendo E vado a cercarne un altro L'acqua 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 Mi arrendo E vado a cercarne un altro Perché questo è tipo Se lo sono mangiato agli alieni E ok ragazzi Siamo tornati E devo assolutamente risolvere Questi crash Mi succedono ogni tanto Ma non so Se si è notato nel video Ma sono appunto Appena crashato Di scheda video E Però 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 Ho trovato qui Mentre aspettavo che il video renderizzasse Il meteorite Stavo per andarmi Non ho trovato questa caverna Open Ero più aperta Quindi Fa chi è insomma E ora io scaverò E arriverò alla chest E vi farò sapere cosa c'è all'interno And there we have it E vediamo se c'è la Silicon Press Con questa Le abbiamo tutte e 4 Queste le lascerò qui Perché non mi servono Però prenderò la chest Perché non lo so Mi piace Tra il resto Non c'è speciale Perché può aprirsi Anche se ha dei blocchi sopra Quindi Yes GG Possiamo cercare l'uscita Da questo meteorite Vush E tornare a casa Tra il resto Sono tornato un attimo A vedere la Trifarm E era ferma E perché questo barile Si è riempito di legno Allora Ecco Si è riempito di nuovo Di legno Quello che ho deciso di fare È prendere un sacco di questo legno Tutto quello che ci sta All'inventario E metterlo qui Per farlo diventare Livingwood Che tanto male Mai non farà avere Un sacco di Livingwood E quindi si Almeno per avere Un po' di spazio libero Poi forse lo butterò Addirittura via Andiamo a vedere Magari velocemente Quanta cosa War Wah Mi sono incasinato le mani Quanta cosa Warposa Eh si Warposa Slaggiosa abbiamo E poi Andiamo a creare La nostra prima Minicosa Della Applied Energy Sticks Probabilmente Andremo a farlo Nel prossimo episodio Tu sei fermo O Eri fermo Oh Look at this Abbiamo un sacco di Sand Che porterò su A cuocere Dirt Course Micelli Heat Sand Un bel po' di cose Bello E quindi Saliamo Qui Saliamo qui E Burr Mettiamo a cuocere Questa sabbia Qui Vedete che ho Della Stone Da mettere A fare un po' Di living Perché ne ho poca E Qui Potremmo Addirittura Togliere Questo No Dove Lasciare Why not Vediamo come sta andando Vabbè Intanto andiamo a poggiare Tutte le cose E poi vediamo come sta andando Il nostro Munchtube E Uno stack 28 stack Di living wood Ci metteranno tipo Un sacco di tempo Formarsi però Ehi Amen Il nostro Munchtube Stia andando benone Ha creato già un po' di mana Nice 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 Allora 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 Anche qui sta andando bene La nostra farmina di grano E Allora Creiamo la nostra prima cosa Applied energistics Allora Ho detto un po' di volte allora Allora Vediamo di creare Una Piccola Una piccola cosa E vediamo cosa ci suggeriscono gli archivens Perché voglio un po' fare questa mod Come ce lo dice Ecco insomma Poi chiuderemo l'episodio abbastanza presto Potremmo creare semplicemente un flux crystal Probabilmente è quello che Andremo a fare Una storage cell Un crafting terminal Sì Più o meno dobbiamo partire da questo Quindi Io direi che Prima di tutto Anzi Direi che Cominceremo l'applied energistics Nel prossimo episodio Io tra episodi Crafterò un altro Di questi generatori Perché ci servirà Un sacco di corrente Per fare andare Il nostro sistema Applied energistics Quindi Sì È sempre buono da avere E Niente Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio per la visione Vi rimando il prossimo video Che caricherò E ciao ragazzi Buongiorno Buongiorno